Bella ragazzi qui ci siamo, bentornati con questo nuovo video, siamo signori finalmente tornati con il secondo episodio dell'Hunter2Glory Andremo subito ad upgradeare questa squadra, in totale abbiamo fatto 10 punti di cui ne utilizzeremo 9 Allora, visto che proprio non ci sono giocatori bronzi rari, solo quelli che vedete proprio nella squadra Utilizzeremo questi come bronzi rari, quindi andremo ad upgradeare per un punto il difensore centrale per un punto Il centrocampista Guridi per Lopez, facciamo finta che sono bronzi rari E l'ala destra per Sariechi, per così Poi per tutti un punto metteremo nel ruolo di centrocampista centrale Rodrigo Poi come difensore centrale sempre per 2 punti il nuovo Tosca, che penso si pronunci così E poi l'ala destra nuova per Dracic, che ha dei buoni valori diciamo Ed è anche 4 stelle di skill, questo 3 e vabbè il difensore centrale penso ce ne avrà 2, è malapena Lasciatemi da subito un bel mi piace, raggiungiamo i 10 mi piace se volete un prossimo episodio E niente, ci vediamo tra pochissimo, buona visione, bella raga Ok raga, prima partita di oggi Non potete capire, sono già passati 5 minuti da quando ho trovato una partita Raga, è impossibile trovare partite, speriamo che non quitta Oh ma questo, no ma se questo mi comincia a fare possesso palla, io giuro che mi è cazzo Grossissimo Allora, vediamo un po' se mi ricordo ancora i tasti Non mi ricordo i tasti, però va bene Hunter, gestimo palla un attimo, vediamo un po' un attimo che può accadere Mamma mia, c'è la prova Gonzales, no, non so chi era, Guidi là, come cazzo si chiama Mamma mia, vediamo un po' di Ah, ok, 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 vediamo un po' di ricordare un po' di cose, raga, cioè mi dovete dare una mano Mi dovete dare un po' di tempo per ricarbura e tutto quanto Allora, mo facciamo un call della sicurezza, speriamo che Hunter è più che altro Guarda, guardalo, guarda, assist di Hunter Hunter assist, sì Hunter, grandissimo assist di Hunter, ragazzi Siamo svegliati al ventisesimo, finalmente Ho visto proprio l'inserimento, regà, l'inserimento di quest'anno L'ha visto Hunter sotto? Oh, bella, bella Hunter No Oh, l'ha tenuta L'ha tenuta, Alex 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 Non sta, ma non c'ha skill, non c'ha niente, non sa fare niente, regà Pallonetto Ma perché mi metto a fare ste cose? Ma perché mi metto a fare ste cazzo di cose? Ma perché, ma perché sono proprio idiota, sono proprio idiota, regà No, gol Porco Riprendiamo, raga, vediamo un po' No, mi spieghi che passaggio era? Mi spieghi che passaggio era? Cioè, regà, io l'ho tipo passata e voi non potete manco immaginare come A terra Oh, Balloon In Hunter No, dai, non ce la posso crede Non ce la posso crede, regà, non ce la posso crede Assist di Hunter forse no Manco nella vita proprio No, regà, non ce la posso crede No, no No Atterrete, prego Sì, vabbè, guarda che piedi storti che c'ha Guarda che piedi storti che c'ha Sì, no No, regà No, regà, non ce la posso crede Comunque, regà, partiamo con la seconda partita di oggi Ok, regà Seconda partita di oggi Hunter Hunter mi prova subito Sì, Hunter Un Hunter Alex Numero 10, regà Sì, ci siamo rifatti Sì, ci siamo rifatti subito posto call, regà Sì, io gli ho rubato palla Sì, regà, io gli ho rubato palla Dall'Hunter Oh, Hunter si gira Inventate qualcosa Oh, Hunter Sì, Hunter Mamma mia, regà Dovete già, Hunter Sì, regà Regà, se so Si sono fatti autogall, regà Non ce la posso credere Si è fatto autogall Vabbè, Hunter risulta così a capo Grandissimo, Hunter Oh, regà Non sto tenendo tutto Tieni là Hunter Vai, regà Non ce la posso credere, regà Tutte le skill Gli ultimi 5 minuti, regà Non sta più giocando Quindi Io direi di Chiudere questa seconda partita, regà Abbiamo vinto 3 a 0 Due gol di Hunter Quindi punto della vittoria Perché il mio compagno, regà Non stava più giocando da 5 minuti Cioè, 5 minuti nel tempo Quindi io la prendo come vittoria, regà Perché se no Ci sarei rimasto ancora altri 25 minuti Perché non riusciva a giocare Partiamo con la terza ed ultima partita di oggi Ok, raga Speriamo la terza ed ultima partita di oggi Perché, regà È proprio difficile registrare questa sera, regà Io spero di upgradeare la squadra E trovare almeno giocatori validi Che non quittino Ok, già cominciamo molto male C'è anche Griezmann davanti Eccolo Antoine Quindi io Deciderei anche di stare Un po' Carmine e Manzi Perché davanti potrebbero farci davvero davvero molto male Ecco, tipo questo tiro faceva molto molto male Grossissimo Sì, regà 1 a 0 Che tiro brutto Però 1 a 0 Vantaggio Va benissimo Va bene Va bene Va benissimo Guarda, guarda, guarda Quello che sto fa per fare gol hunter Guarda quello che sto fa per fare gol hunter E per fare due punti Perché se no il punto della vittoria sarebbero solo sei punti, regà Non ci basterebbe per fare un'emerita Sceppa A terra Sì, a terra 2 a 0 Sì, a terra 2 a 0 Pose me quitta, regà Io ve la lascio la partita Perché questa sarà la terza E basta E basta Vabbè Bella punizione ha fatto, regà Ha fatto una bella punizione, regà Non c'è niente da fare Ha messo tutta al set Dai che ci arrivi Sì che ci sei arrivato, carcola Oddio Oddio A terra Sì, a terra Doppietta 3 a 1 L'ho fatto, regà Non poteva essere uno stigolo Perché non mi sono smarcato Cioè, mi sono smarcato uno Ho tenuto palla nello stretto È vero, però No, no Perché? Perché? Perché questa cosa? Questa cosa brutta? Questa cosa brutta? Eh, vabbè 3 a 2 Cioè, regà Due errori miei Chiaramente No Sì No, regà Dai Griezmann è illegale, regà Porco Iniziato il secondo tempo, regà Cioè, mi ha recuperato 3 gol No, dai, regà Madonna Sul primo palo No, eh Non posso rischiare di perdere anche questa partita Manco posso fare sostituzioni Guarda Guarda C'è un fastidio, cane Che mi danno i rimpalli Guarda Mi dà un fastidio Mamma mia Se fa un altro gol Porco Te prego Te prego Cioè, regà Se sbagliamo pure sti cosi Ma Ma che famo? Cioè, regà Se sbagliamo sti gol Questi gol Questi sono gol Cioè, questo era un gol Sì 5 a 4 Sì, regà 5 a 4 Forse il comeback Forse il comeback Forse c'è il comeback Forse c'è il comeback Sì, regà C'è il comeback Mamma mia, regà Non riesco ad andare avanti Non riesco ad andare più avanti Lo sapete che vuol dire Non riesco ad andare più avanti Più avanti riesco Non ci riesco più Gol 6 a 4, regà 6 a 4 Non ce la farò mai Dai, regà Non ce posso credere Cioè, regà Tra l'altro Un punteggio irreale Perché nella vita Regà Non si è mai visto 6 a 4 Regà Per favore Ditemi che non è vero Perché 6 a 4 Non l'ho mai visto Nella vita Forse nella serie C Dei poveri del Brasile 6 a 4, regà E niente, regà Finita qui 6 a 4 Che pesanti sconfitte, regà Pesanti sconfitte Io spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Un commento Raggiungiamo I 10 mi piace Se volete un prossimo episodio Speravo che sarebbe andato un po' meglio Dalla prima partita Però, regà Può capitare E niente, regà Ci vediamo Con tanti nuovi video Qui da Sianf E' tutto Ne sentiamo prossima Bella raga